A voi tutti ben ritrovati amici di Rete7, migliora il tempo gradualmente nella giornata di venerdì quindi avremo tempo ancora un po' cielo, un po' nuvoloso al mattino con gli ultimi fiocchi al primo mattino poi sarà netto il miglioramento con cielo, guardate, prevalentemente sereno con cielo prevalentemente sereno entro il pomeriggio e quindi tra il pomeriggio e la serata e attenzione dopo il tramonto le temperature faranno sul serio, le temperature minime quindi tempo buono, tempo tranquillo, anche ben soleggiato col passare delle ore come detto a parte le ultime nuvole e gli ultimi fiocchi proprio in primissima mattinata poi tenderà a migliorare, temperature massime in lieve rialzo ma le minime andranno giù andranno al di sotto dello zero, attenzione alle gelate Proverbio prima di concludere Dopo Santa Lucia il freddo è sulla retta via ed in effetti è arrivato E' tutto cari amici, buon proseguimento, arrivederci Grazie 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 Grazie